Ciao a tutti, facciamo una ricettina proprio flash, visto che mi avete chiesto in tanti il pane integrale con il lievito madre liquido, naturalmente senza impasto, quindi in maniera più semplice. Allora andiamo a prendere il lievito madre che ho messo in un recipiente, 100 grammi di lievito madre. Andiamo a mettere 700 grammi di acqua insieme. Ecco qua, 700 grammi. E sciogliamo il lievito madre nell'acqua. L'acqua in questo caso è sui 25 gradi. Vedete adesso qua abbiamo la nostra bella farina integrale. Adesso andiamo a metterci il nostro liquido, quindi acqua e lievito madre. Ne mettiamo circa metà all'inizio e il sale insieme. In questo caso con il sale non ci sono problemi, in quanto il lievito madre ha più batteri lattici che lieviti, quindi non vanno a interferire. Misceliamo proprio due secondi e andiamo a mettere il resto dell'acqua. Misceliamo. Come vedete io ho miscelato proprio il tempo necessario che la farina assorbisse l'acqua, infatti l'impasto è ancora... ha incorporato l'acqua però non ha formato glutine. Come vedete è tutto... è ancora da sviluppare il glutine. Allora noi adesso aspettiamo 10 minuti e poi diamo una mescolata di nuovo veloce con il cucchiaio. Come vedete già io iniziando con il cucchiaio a dargli delle pieghe dall'esterno verso il centro, l'impasto inizia già a avere forza a sviluppare glutine. Io naturalmente questa operazione l'ho già fatta. Adesso prendiamo il nostro impasto, lo copriamo con pellicola, lo facciamo riposare per 8 ore a una temperatura all'incirca di 20 gradi. Ed ecco qua il nostro impasto lievitato tutte le notte. Adesso andiamo a fargli la forma e dopo lo facciamo lievitare e sarà pronto per essere infornato. Allora prendiamo l'impasto, lo mettiamo nel piano di lavoro già sfarinato con un po' di semola. Vedete che bel l'impasto, comunque come si è incordato la maglia glutinica si è formata lo stesso. Adesso andiamo a fare delle pieghe. Quindi pieghiamo su se stesso l'impasto fino ad avere una certa tenacità, dare un po' più di forza appunto all'impasto. E una volta fatto questa operazione andiamo a pesare le nostre forme. Quindi dividiamo l'impasto in tre parti, all'incirca ogni parte deve essere del peso sui 600 grammi, grammo più grammo meno. E una volta finito andiamo a formare dei filoncini. Quindi cerchiamo appunto di dare una forma rettangolare e poi piegarli su se stesso, dargli un po' di forza e formarlo a filoncino. Una volta preparati i filoncini li mettiamo su una teglia con una carta da forno sotto. Copriamo con pellicola e aspettiamo che l'impasto triplichi. Naturalmente lo mettiamo nel luogo caldo. Ok, la lievitazione è giunta al termine, adesso andiamo a infornarlo a 200 gradi per 50 minuti circa. E il nostro pane è pronto, adesso lo facciamo raffreddare e poi ce lo mangiamo. Ciao! 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 Ciao!